Dall'improvviso freddo dopo un pomeriggio, quasi estivo, squadra in campo, super spot e poi le derby di Milano. La gente ci crede, la squadra è una squadra che dà l'impressione di essere in crescita. È stata sempre gli stessi, c'era solo un ballottaggio che ci portavamo ormai da 7-8 giorni e l'ha vinto Davide Calabria. Quindi Ignazio Abate partirà dalla panchina, importa sempre lui, Gigio Donnarumma, una formazione con una medietà bassissima, una squadra molto giovane. A destra, come dicevo, Calabria, a sinistra confermato Lovighez in mezzo, i soliti due perché giocano sempre loro, Musacchio e Romagnoli. Dara però è rientrato e sta in panchina, Chiesi Bighez, Buonaventura è in mezzo al campo ed in attacco, come ti dicevo. Perfetto, ma questo... 4-2-3-1, ci sono tre cambi rispetto all'ultima di campionato perché c'è Versalco al posto di D'Ambrosio, va in panchina Miranda, ritorna De Fraico, Skriniar e Asamoa sulla sinistra. Davanti la difesa, Brozovic e Vesino che stringe i denti, dietro Icardi, Politano che prende il posto di Keita, Nainggolan e Peresic, 4-2-3-1. Questa è l'Inter che questa sera affronterà il Milan. Bellissimo, bellissimo sotto le comando, però abbiamo anche un po' gioco... Può essere in corso quasi fino all'ossessione. Euro 2020, tutto questo solo su Sky, con Ciattel e Terpi di Milano, con il primo pallone giocato dal Milan. Perché Fondari in percussione, ancora Calabria, il pallone è al limite. Attenzione a Suso, da lì può calciare, Suso, parte il tiro! Oh, la palla termina di poco fuori con Andavis, che osserva con calma olimpica il pallone terminario sui cartelloni. Prima occasione della partita, non tanto sul tiro di Suso da 25 metri, può essere pericoloso da quella distanza, ma la palla è uscita di parecchio. Quanto nello sviluppo precedente una percussione di Calabria aveva permesso al Milan di cambiare fronte, c'era Cialano. Bella l'apertura per Asamoah, posizione grossa, Asamoah in mezzo a cercare Icardi, vola Donnarumma. Più grosso fisicamente rispetto a Calabria. Parte il cross di Brozovic, ballo sul secondo palo! Icardi! Inter in montaggio! Attenzione! C'è l'intervento di Guida con l'annullato. L'assistente non è andato su con la bandierina, ma ha subito segnalato a Guida che secondo lui c'è fuori gioco. Adesso lo controlleranno, chiaramente. Il cross è pericoloso, perché a rientrare verso la porta, quando passa il primo uomo, se non la tocca... Cialanoglu punta vicino, prova a far passare il pallone. Ancora Cialanoglu va al tiro! Pala fuori con Andanovic, che era comodamente a protezione del primo palo. Entrambi le ali, gli esterni offensivi del Milan, hanno questa possibilità di rientrare verso l'interno del campo, essere molto pericolosi con il tiro dalla media distanza. Suso l'abbiamo detto prima, Cialanoglu... La sterzata di Suso, poi la mette in mezzo, attenzione! Che sì! Pressato al momento del tiro di Brozovic, stazione in questa videopartita politano. Che sì! Il tegale di Brozovic, l'intervento è falloso, era molto vicino a Guida. Calcio di punizione per il Milan. Si è Guida a un metro, probabilmente Brozovic tocca la palla, ma dopo aver toccato il piede, la gamba di Chessy... Tra Guida stasera è la partita numero 125. Non va a riconquistare il pallone, affonda Politano, da percussione di Politano, palla in mezzo, la deviazione! Palla che termina vicino, subito due addosso, la mette in mezzo, il pallone al limite, prova a liberare il senso Vecino, che viene chiuso, poi Vecino intenta di recuperare, assente di crossare, vada per Salico. Versalico che la mette in mezzo, il colpo di testa, la parte di Perisic, il volo di Donnarumma a mettere il pallone in calcio d'angolo. Bella parata qui Donnarumma, pericoloso Perisic. D'altra parte si sapeva che l'Inter nel gioco aereo, nei colpi di testa, ha qualcosa in più, potrebbe avere qualcosa in più rispetto all'Inter. Al Milan, scusa, andando incontro dal limite dell'area, non era facile far meglio di così per Perisic. Terzo angolo per l'Inter, serie di blocchi all'interno dell'area di rigore. La sponda a vantaggio di Nengolan. Termanti in teglia su Nengolan è durissimo. Questo è brutto, questo è brutto. Adesso, qui sicuramente c'è sanzione disciplinare, bisogna vedere il colore del cartellino giallo. No, ma si sono fatti male entrambi perché ha perso il controllo dell'impatto Biglia. E ha preso la caviglia di Nengolan, ma si è fatto male anche lui. Ancora l'Inter che riconquista palla, Politano va a terra, attenzione, Vecino, parta il tiro, centrale, solo su Perisic. Si allunga il pallone Suso e lo perde. E poi, nel tentativo di contrastare l'avversario, lo mette anche Fallo. Ci sarà caccia di punizione per l'Inter. Suso è in ritardo. Eccolo qui. Va a travolgere Vecino, Fallonetto. Si, non affonda il teckel con la suola, però con la punta, secondo me, tocca Vecino all'altezza della caviglia. Qui rivediamo il contatto precedente, non c'è assolutamente niente. Se non da sottolineare, la buona copertura difensiva da parte di Chessy, che vede Borcavalero davanti. E lo segue, fa ripartire un paio di volte la squadra con grande lucidità. Qui non c'è fa i danni di Nengolan da parte di Biglia, può attaccare il Milan. Suso, Nengolan rimane a terra. Chessy. Buonaventura. Chessy. Rodríguez. Chessy. Il finale di Pallone viene messa in a polo laterale. Solicitato anche dal pubblico. In Italia ormai è constitutile che... Novitura. Smi c'è con la parola 20 metri, preostanova i rudigi. Sori si parla è donna. Udare! E'vonore, ad agraca Inter. E'vonore un tiro. Un tiro. Scarrini era. No, ecco. E'vonore essere ammai è avvenata. E'vonore un tiro. Che a parola una pilota di ero. E'vonore, ecco. E'vonore, ecco. E'vonore. E'vonore. E'vonore, ecco. E'vonore. E'vonore. Autore dei sottotitoli per la scuola no m'è passato sa scuco be тяжеловo высокий balac asamoa si содержит его за руку nel po' ci si sta Buonaventura, non dipregnò, per sottotit. Zapevice, zapevice. E' stato il brosso, ci stavano il tuo vore. Politano! E attacca хорошa, un tempio tornato. E' in questo frammento, se volete, la precedente di Zaycardi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.